Che vi avevo detto? Praticamente sono stato l'unico che fin da subito vi avevo detto che si sarebbe fatto questo governo Movimento 5 Stelle PD, mentre gli altri vi raccontavano di retroscene internazionali, intrighi planetari, tirando fuori argomentazioni francamente ridicole, il 5G, la via della seta, come se l'Italia fosse il centro del mondo, il luogo nel quale si scontrano i grandi interessi delle superpotenze internazionali, facendo poi diventare in questi discorsi fantasiosi addirittura prodi un superestimatore della Cina ancora più che non un europeista. Ma poi facendo passare anche Di Maio e l'intero Movimento 5 Stelle come la forza politica che aveva promosso il memorandum con la Cina, quando nella realtà tutti noi sappiamo che l'intera operazione che ha portato Xi Jinping in Italia ha avuto un unico protagonista, il professor Michele Geraci, Palermitano, persona molto nota e stimata in Cina, dove insegna ormai da dieci anni nelle più prestigiose università del colosso asiatico. E per chi non lo sapesse, il professor Geraci, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, sul bavero della giacca, porta Alberto da Giussano. Ma lasciamo perdere, dai, quel che vi hanno raccontato altri e torniamo a quello che vi avevo detto io. Sì, ho parlato di nomi, ho ipotizzato Fico alla Presidenza del Consiglio, metteranno invece Conte. E allora? Cioè, ditemi voi che differenza c'è tra Fico e Conte, ditemi dov'è la differenza. Agli interni ho ipotizzato la Boldrini, adesso non so chi metteranno, ma si parla di Morcone. E allora? Che differenza c'è tra Morcone e la Boldrini? Morcone che ha detto che se dovesse andare al Viminale la prima cosa che farebbe è cancellare il decreto sicurezza bis e riallacciare i rapporti con le NG. Ma trovate voi delle differenze tra queste idee e quelle della Boldrini? La cosa che mi premeva di farvi capire è che un governo PD-Movimento 5 Stelle sarebbe comunque vomitevole. Ma, ripeto, torniamo a noi. Personalmente ho avuto immediatamente la consapevolezza che sarebbe andata così. Ossia si sarebbe arrivati a un governo PD-Movimento 5 Stelle. E l'ho avuta subito quando, subito dopo che Salvini aveva staccato la spina, Grillo aveva tuonato. Mi eleverò per salvare l'Italia dai barbari. Non si può lasciare il paese in mano a gente del genere. Allora, i casi erano due. O Grillo è affetto da una malattia neurodegenerativa, cosa che naturalmente non si può escludere a priori. Oppure è sempre stato un disonesto ed il Movimento 5 Stelle quindi non è mai stato quello che tutti avevamo pensato. Bensì non è nient'altro che una truffa messa in atto proprio dai cosiddetti poteri forti che si sono mascherati dietro ad un movimento che divulgava invece degli altissimi principi etici e morali. Il Movimento 5 Stelle era nato, cioè, tanto per capirci e parlare chiaro, come la discarica ed il riciclo dei voti che la cosiddetta sinistra avrebbe naturalmente perso seguendo politiche europeiste che hanno massacrato il nostro paese. Questo doveva emergere e questo oggi è emerso nella maniera più evidente e grazie a Salvini. Ovviamente non l'hanno ancora capito tutti, ma il tempo è un galantuomo. È stato Salvini che staccando la spina al governo e determinando tutto quello che è accaduto dopo lo ha evidenziato. È stata una mossa necessaria, altrimenti gli italiani non avrebbero mai capito cos'è nella realtà il Movimento 5 Stelle. Vedete, gli italiani in larga parte, o addirittura per la quasi totalità, gli italiani hanno capito perfettamente che cosa è il PD. È il maggior responsabile del disastro sociale del nostro paese. Ma gli italiani non avevano ancora capito cosa fosse il Movimento 5 Stelle. Ed in tanti infatti erano caduti nella trappola pensando che fosse davvero un movimento politico fondato su grandi principi, grandi ideali. Erano quelli che si decortavano lo stipendio per donarlo alle micro imprese. Ed in effetti probabilmente la quasi totalità delle persone che ne facevano parte e ne fanno parte tuttora sono in perfetta buona fede e sono le prime vittime di questo grande, grandissimo inganno. Ora, ripeto, adesso tutta l'Italia ha capito che il Movimento 5 Stelle era, e lo ripeto, la discarica e soprattutto il riciclo del PD. E avendolo smascherato è chiaro che il Movimento si sta per disintegrare. Non penso più ci sia un elettore del Movimento, tranne ovviamente quelli affetti dalla sindrome di Stoccolma, che vorrà anche in futuro ridare il proprio voto ai 5 Stelle. I vari Di Maio & Company sono degli zombie che camminano. La conferma che tutto ciò che vi sto dicendo non è altro che la pura e semplice verità è data dal comportamento sempre coerente, per l'amor del cielo, ma sempre più scandaloso dei media mainstream, che se possibile sono ancora più vomitevoli di prima. Sentite come i vari Mentana e compagnia cantante parlano oggi in maniera entusiasta dei 5 Stelle, descrivendo Di Maio come un grande politico, mentre l'unico bersaglio dei loro strali è rimasto Salvini. Tutti i media mainstream descrivono Salvini come uno sconfitto, come uno che ha commesso un errore grave, come un pugile suonato, mentre la realtà è l'esatto contrario. Ma ciò che mi stupisce di più è che ancora molti di voi, ma davvero molti di voi carissimi ascoltatori, si lasciano condizionare ancora dai media nazionali. Ma non avete ancora capito che quanto vi dicono i vari Mentana e compagnia è proprio l'opposto della verità. Ma non l'avete ancora capito, ma cosa ci vuole ancora? Che altre prove volete? Allora permettetemi di essere anche un po' duro, ma se non l'avete ancora capito allora lasciatemelo dire, vi meritate di farvi governare dal PD e dal Movimento 5 Stelle. Se gli italiani sono così idioti è chiaro che allora i governanti non potranno essere diversi da loro. I sondaggi con la Lega in calo e addirittura il crollo della fiducia nei riguardi di Salvini, tutte balle. Ma scusatemi, secondo voi se la Lega dovesse perdere un 1 o un 2% dei voti, a chi volete che vadano quei voti? Al Movimento 5 Stelle, al PD? Ma dai, non fatemi ridere. Eventualmente quei voti andranno a Fratelli d'Italia e quindi rimarranno all'interno della coalizione. Se nei prossimi mesi la Lega, in coalizione ovviamente, ma dovesse vincere anche nelle regioni nelle quali si vota? Beh, praticamente governerebbe in tutte le regioni d'Italia. E se successivamente si dovesse tornare al voto nazionale, perché dai, il governo giallorosso dimostrerà ben presto tutta la sua fragilità, beh, potrebbe anche andare la Lega di nuovo al governo del paese dopo le elezioni. Allora, a quel punto Salvini si troverebbe un potere che veramente nessun altro uomo politico italiano, nell'Italia repubblicana ovviamente, ha mai avuto. E sarà in quel momento che dovremmo capire tutti la vera caratura politica di Matteo Salvini, perché in quel momento non avrà scuse, non avrà alibi. E in quel momento, se davvero vorrà passare alla storia, dovrà per forza andare allo scontro con l'Europa. E potrebbe essere la nostra seconda liberazione.